buongiorno e buon sabato come avevo anticipato il sabato la domenica ci saranno video di storia così quello però dipende da jack perché il materiale io lo preparo e poi decide lui jack comunque ve lo dico giustamente deve prendersi un attimo di riposo anche lui con la sua compagna però ci sono alcune informazioni che secondo me erano importanti da darvi quindi cercherò di essere veloce prima di tutto pollicione iscrizione se volete al canale così mi date una mano attivate la campanina per ricevere gli avvisi e ringrazio sempre chi condividi i miei video velocemente ieri c'è stato un problema abbastanza esteso da parte di poste italiane che ha riguardato tutte le applicazioni le carte di poste italiane non era specificamente diretto verso rdc o altro ma di fatto non funzionavano le poste pay perché non funzionavano i siti dell'inps perdono non funzionavano questi di poste italiane non funzionano le app non funzionavano i sistemi di pagamento utilizzando il valle del telefono non funzionava un accidente non funzionavano neanche in né l'accesso al governativo per verificare i saldi e neanche il numero verde il problema è rientrato a partire dalle tre e mezza e dovrebbe essere completamente sistemato non è successo niente a voi il problema è che è successo queste poste ovviamente non ha spiegato le motivazioni tanto che non comparivano neanche quando utilizzavate la carta in quel momento in cui usciva transazione negata ma non compareva la ragione è semplicemente il sistema era completamente in down e non riconosceva le carte ma non c'entrate niente voi ribadisco passiamo alle altre perle governative ennesima circolare spiegazione che non spiega un accidente che riguarda il pagamento del bonus 200 euro per i dipendenti pubblici che lo riceveranno in automatico soltanto se il loro stipendio viene erogato e percolato dal ministero delle economie finanze gli altri dovrebbero presentare teoricamente un facsimile che poi verrà inoltrato per permettere di ricevere questi soldi voi questa cosa non vi tocca però stiamo attendendo non solo la circolare che spiega esattamente come verranno accreditati sull'rdc soprattutto per le persone che nel mese di luglio si troveranno nel mese di stop o per le persone che nel mese di luglio riceveranno il rinnovo quindi come verranno accreditati verranno accreditati insieme con il 15 verranno accreditati il mese dopo non si sa un accidente e per raggiungere confusione confusione perché non si sa mai c'è sempre il problema di chi è lavoratore dipendente riceve l'rdc l'inps ha comunicato che farà uscire una circolare in cui spiegherà come andrà risolta la cosa siamo oggi al 18 mancano 12 giorni quando questa procedura inizierà perché inizierà con i pensionati restiamo in attesa che quella manica di bradipi si dia una svegliata annetto del fatto che chi non ha non si trova in queste particolari condizioni c'è un percettore rdc puro i soldi arrivano direttamente sull'rdc se si trova in un'altra particolare condizione arriveranno sull'altra particolare condizione quindi lavori prendi l'rdc andranno in busta paga sei pensionato e prendi l'rdc andranno sulla pensione però vorremmo un chiarimento definitivo dell'inps su queste cose e anche vorremmo capire perché l'inps per l'ennesima volta ha fatto la vaccata cioè per chi ha ottenuto rinnovo metà mese l'inps ha fatto le lavorazioni dell'assegno unico per i pochi fortunati ribadisco non l'ha fatto a tutti anche nel mese di giugno più raccontandolo come mese senza rdc e quindi c'è c'è il rischio che si debba restituire una somma lo specifico perché la somma riguardante maggio in cui non eravate percettori rdc sto facendo l'esempio adesso è un discorso che vale comunque sempre è quella non succede niente è quella dopo che si è stata fatta calcolando la cosa come non percettore beh la differenza probabilmente andrà restituita non si sa come non si sa quando avete visto che per richiedere indietro i soldi dello stesso problema che si era presentato mesi fa ci hanno messo mesi e per chiarire la somma che si percepisce quando non sei percettore rdc è diversa da quella che percepisci quando sei percettore rdc perché una parte della quota dell'assegno unico quando sei percettore rdc viene erogata direttamente sulla carta e quindi non sono uguali e questo il discorso non pensate a errori degli errori ne hanno fatti in avalanga ma parte questo però questo è un dato di fatto per dire se ne butto cifre caso e non prendete le cose senza rdc ne prendete 100 magari con rdc ne prendete 50 perché gli altri 50 sono sulla carta preparatevi anche lo dico per io comunque partirò nei primi giorni di luglio e farò avanti indietro perché comunque anche un lavoro da seguire preparatevi ad altre fregnacce in merito al risparmio energetico perché da noi il vostro la vostra la vostra iguana ha preso un due di picche che metà basta anche perché doveva mettersi d'accordo con noi con cipro con la cipro greca con la cipro turca e con la turchia e sostanzialmente è stato un quadrilatero di ma che cacchio vuoi o meglio se li vuoi se li vuoi come ha detto giustamente uno di voi mi sembra luke luke vedere denaro mostrare cammello io della parola non offendetevi italiani non è una questione di essere italiani la questione del governo italiano che è uno tra i peggiori pagatori al mondo io della parola di un governo che appunto è uno dei peggiori pagatori al mondo e ti dice sì ma te li diamo e ragazzi siamo sempre lì mi fido una volta sei furbo tu mi fido due volte sono fesso io noi per sicurezza non ci fidiamo neanche la prima volta e come noi altri paesi di questo del bacino mediterraneo medio orientale siete dei patacari come governo non parlo ribadisco non parlo delle persone io parlo del governo avete una fama come governo di essere dei patacari che consola l'inps ha avvisato che comunque continueranno altre lavorazioni in merito a chi non ha ancora ricevuto risposta risposta che può essere ritardata proprio dei controlli ulteriori le nuove pastiglie hanno lo io io che può essere ritratta dei nuovi controlli e questo crea un ulteriore problema perché a lungo i tempi in effetti c'è il rischio che veramente si vada a finire con un ritardo di un mese intero anche se il decreto il decreto attuativo della rdc indica chiaramente che la risposta deve essere data entro la fine del mese successivo a quella della domanda per cui se voi fate la domanda a maggio la risposta deve arrivare al massimo entro giugno alcuni funzionari dell'inps parlano invece addirittura di metà luglio quindi ben oltre la situazione cosa dovrebbe succedere dovrebbe succedere che un qualche deputato si incazzi il problema sostanziale lo sapete qual è il partito che ha creato l'rdc adesso è più impegnato a farsi le pulci che a fare il proprio lavoro e per favore non vengano sotto i fan pentastellati a rognare perché io li ho votati quando erano itali 5 stelle e non me ne pento di quel voto perché speravo che poi qualcuno avesse abbastanza salinzucca da buttar fuori calci in culo tutti quegli scappati di casa incompetenti che invece hanno avuto dei ministeri l'unica cosa buona e chi avendo parlato l'elevato che ha detto che i due mandati bastano avanzano alle prossime elezioni ci sarà letteralmente un'ecatombe di questi pesi morti a partire da di maio che magari cercherà di accasarsi nel pd poi voglio vedere onestamente lo dico se di maio si accasa nel pd io voglio vedere con quale faccia si presenterà in qualsiasi piazza italiana dicendo che sono per il cambiamento perché se si presenta e non gli tirano i pomodori è semplicemente perché non ne hanno sotto mano se ne andrà fuori dalle balle gente come toninelli come la taverna come la castelli tutta gente che non sa fare un cazzo ed è stata messa lì perché era popolare sui social di battista non se ne va fuori dalle balle ma purtroppo ma fortunatamente lui è impegnato adesso nella patria di villa di miro a fare che non si sa realmente un altro dei suoi reportage scritti con la stessa cognizione e conoscenza dell'ambiente che hanno personaggi come colosimo e daniken che non sapeva neanche da che parte girarsi e vedevano gli ufo dentro la lastra di palenca vabbè detto questo ragazzi è cominciata la firma per la raccolta di un per il referendum che non si può applicare voluto da renzi che sa benissimo che un referendum che non si può attuare perché non ci sono i tempi tecnici ma che comunque gli servirà magari per accattare qualche voto di qualche iper liberale mangiatore dei diritti che sempre contento di nominare le persone per il resto ragazzi chiudo su una cosa io vi ringrazio ringrazio tutti per i vostri commenti sotto il video sulle braccia mario se volete sapere il suo nome il nome di questa persona lo trovate sui quotidiani lo trovate in rete ma non era quello il mio obiettivo l'obiettivo e l'hanno capito tutti quelli che mi hanno scritto vi ringrazio per i commenti era mettere in luce un diritto fondamentale la vita è bella quando la puoi vivere quando ti viene tolta questa possibilità quando tu sei costretto a non poterla a vivere e questa mancanza è per te un dolore intollerabile nessuno stato al diritto e nessuna religione al diritto di farti soffrire la sofferenza non ha mai fatto contento nessuno non è mai stata una gioia per nessuno e chi me la contesta ricordo le parole del rabbino di nazareth sulla croce eloi eloi lama sabachthani colui che colui che perché mi stai facendo questo o meglio nella traduzione più canonica perché mi hai abbandonato io penso che non lo colui che non lo abbia abbandonato siamo noi che abbandoniamo quelle persone siamo noi che per motivi che ci inventiamo le cose facendo i capziosi su testi che vanno interpretati che dimentichiamo che il più grande dono che ci ha fatto colui che è e la capacità di decidere di decidere anche quando smettere di soffrire ciao a tutti